Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Tedestense a Bondeno, incendio in un appartamento ieri nel tardo pomeriggio in via Battisti, dove un rogo ha devastato un'abitazione al terzo piano di un palazzo. In Colume la coppia che vi abita, ma la casa ora risulta temporaneamente inagibile. Si tratta di marito e moglie, l'uomo sarebbe stato assistito dai sanitari per aver riportato qualche piccola scottatura e avere inalato anche del fumo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. Da una prima analisi sembrerebbe che le origini dell'incendio siano da ricercare nella cucina dell'appartamento, però naturalmente saranno i tecnici a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ora parliamo del Covid, ma per quanto concerne l'economia, perché in Emilia Romagna, a partire già da metà aprile, ci saranno in arrivo nuovi ristori per le imprese. Sono oltre 6.000 le domande che sono state ammesse alla bando di Union Camere regionale. Nuovi aiuti in arrivo alle imprese dell'Emilia Romagna, più colpite dagli effetti negativi provocati dalla pandemia da Covid-19. È stata approvata la graduatoria del terzo bando Ristori, gestito da Union Camere regionale, che finanzia con oltre 31 milioni di euro i settori del turismo, commercio, agricoltura, imprese, servizi, cultura e sport. In regione sono state 6.139 le domande ammesse all'assegnazione dei contributi, che ammontano complessivamente a 28 milioni e 185 mila euro. Un'importante boccata d'ossigeno per le oltre 6.000 imprese dell'Emilia Romagna, danneggiate dalla pandemia, che nelle prossime settimane riceveranno un nuovo pacchetto di aiuti. Si aggiungeranno i quasi 66 milioni di euro tra fondi regionali e statali già messi a disposizione da Viale Aldomoro a partire dallo scorso anno. Un intervento che fa ben sperare alle aziende che possono contare su risorse fresche per la tenuta e la ripresa di attività importanti per l'economia del territorio, spiegano i vertici di Union Camere. I contributi saranno pagati alle imprese a partire dalla seconda metà di aprile. Ora il Covid, il coronavirus naturalmente dal punto di vista sanitario sul territorio ferrarese, la situazione insomma continua ad essere abbastanza importante. Il prossimo 31 marzo l'azienda USL di Ferrara ha presentato un piano di riorganizzazione dei centri vaccinali attivi in provincia. Ne chiuderanno alcuni, ne rimarranno attivi invece gli ospedali per le vaccinazioni anti-Covid. Facciamo un po' il punto in questo servizio. Una riorganizzazione di sedi, giorni e fasce orarie di apertura, superanotazione all'accesso diretto che si rende necessari anche a seguito del calo di accessi ai centri vaccinali dovuto principalmente al buon livello raggiunto con le coperture vaccinali nel ferrarese. Così da venerdì 1 aprile chiudono gli hub vaccinali anti-Covid a Codigoro, ad Argenta, a Comacchio e a Cento. Il personale impegnato negli hub tornerà così utile per altri servizi. Poi verranno attivati dei punti vaccinali negli ospedali di Argenta, Cento e Lago Santo e nelle case della salute di San Rocco, di Ferrara, di Bondeno, di Copparo e di Comacchio. L'haba Ferrara Fiere resta operativo come unico hub vaccinale per quanto attiene gli accessi diretti in quanto anche punto assistenza unico per i profughi ucraini, in particolare per quanto concerne la campagna vaccinale anti-Covid, è pronto un piano flessibile organizzato in maniera modulare per aumentare le disponibilità di vaccinazione in caso di bisogno. A Ferrara Fiere rimane libero l'accesso quindi tutti i giorni da lunedì a domenica dalle ore 9.30 alle 17.30. Ora vediamo il bollettino l'ultimo con i dati dove insomma ci sono dei dati che si possono analizzare alcuni anche in controtendenza rispetto ai bollettini precedenti. Vediamo quali. Più guariti che nuovi positivi nell'arco di 24 ore in cui purtroppo si torna a registrare un decesso nel Ferrarese ma il differenziale tra guariti e positivi fa ben sperare almeno per questo bollettino. 345 nuovi guariti, 173 nuovi positivi, un decesso, un argentano di 85 anni e quanto emerge appunto dall'ultimo bollettino Covid. Pressione ospedaliera in leggero aumento rispetto al bollettino di lunedì, 56 ricoverati a Cona, 33 al Delta e 13 a 100. Ancora alto il numero dei sanitari nel Ferrarese attualmente positivi al Covid, 126 persone. Lo stesso trend ferrarese, cioè più guariti che positivi, purtroppo non si rileva a livello regionale. Più di 3.000 nuovi casi, oltre 1.700 nuovi guariti, 10 nuovi decessi in Emilia Romagna dove cresce la pressione sulle terapie intensive mentre rimane stabile sui reparti ordinari. Capitolo vaccini, 173 le dosi somministrate lunedì nel Ferrarese per la maggior parte terze dosi che hanno fatto salire a circa 218.000 le dosi booster totali in territorio estense e 703 le quarte dosi totali somministrate nel Ferrarese. Cambiamo ora decisamente argomento, prossimo weekend per gli appassionati delle auto d'epoca con la 32esima edizione di Valli e Nebbie da venerdì 1 aprile a domenica 3 aprile, arriveranno 75 equipaggi da tutta Italia e dall'estero, partenza ai piedi del Castello Stense, poi un viaggio nel territorio per poter apprezzare tutte le eccellenze dal punto di vista architettonico, artistico, ambientale, culturale ed enogastronomico. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede di chi organizza questo evento mai da anni e cioè Officina Ferrarese. Torna l'appuntamento il prossimo weekend con Valli e Nebbie. Gli arrivi a Ferrara degli equipaggi da tutta Italia e dall'estero sono previsti però già da venerdì 1 aprile a partire dalle 15. La manifestazione poi entrerà nel vivo sabato 2 aprile allo scoccare delle 9 partenza della prima auto da Piazza Castello. Poi a Porto Maggiore è prevista la prima prova tecnica della manifestazione e a quel punto inizierà una vera e propria immersione negli scorci naturalistici del delta e delle valli. L'approdo per il pranzo è a Comacchio all'ombra dei tre ponti, le vetture saranno esposte nella corte di Palazzo Bellini, il rientro in città Ferrara è previsto alle 17 mentre alle 20 è in programma in Castello la cena di gala. Domenica 3 aprile poi la partenza alle 9.30 della prima vettura da Piazza Castello, prove tecniche nel circuito dell'ippodromo e percorso nelle campagne ferraresi. Infine visita al Museo delle Civiltà Contadina a San Bartolomeo in Bosco. L'arrivo è previsto nella cornice della Villa Contessa Massaria Gualdo dove si svolgeranno le premiazioni. Siamo alla 32esima edizione del Valle Leppie, un'edizione che come le altre rappresenta per il territorio un momento di incontro fondamentale e importante. Con le nostre bellissime autodepraca, con gli appassionati che vengono da tutta Italia e anche dall'estero sarà un momento importante per la nostra città e per il nostro territorio. Un piacere portare saluto personale dell'amministrazione comunale a questa manifestazione che anno dopo anno diventa sempre più importante. Un'importanza che è testimoniata dal numero di partecipanti ma soprattutto dal fatto che racchiude in sé tre elementi fondamentali, un aspetto sportivo, un aspetto culturale e un aspetto di conservazione del patrimonio culturale e storico italiano e non solo. L'evento organizzato da Officina Ferrarese è stato inserito dall'ASI, l'Automotoclub storico italiano, come prima tappa del circuito tricolore 2022. La serie di eventi speciali patrocinata dal Ministero del Turismo e Cultura che porteranno gli appassionati a conoscere i luoghi più belli d'Italia in un viaggio che lega cultura, turismo e mototurismo storico. Sì, quest'anno il Val di Emebi è stato inserito nel circuito tricolore e ha avuto il supporto, diciamo, il patrocinio del Ministero del Turismo e del Ministero della Cultura. Quindi un traguardo importantissimo per la nostra manifestazione e un riconoscimento di quello che si è stato fatto in questi 32 anni per Officina Ferrarese. Restiamo sulle strade, parliamo di viabilità perché ricorderemo le lunghe code a causa cantieri dell'anno scorso in piena estate. Anche quest'anno infatti sono previsti persone al lavoro, cantieri per ripristinare e riqualificare la Ferrara Mare. Nei giorni scorsi insomma abbiamo sentito più voci contrarie a questa decisione dell'ANAS e l'ANAS avrebbe dato una risposta, cioè che a luglio e ad agosto i cantieri si fermeranno. Sentiamo. Stop ai cantieri sulla superstrada Ferrara Mare a luglio e agosto prossimi. La promessa arriva da ANAS dopo le sollecitazioni della politica in merito al rischio di rivedere le scene degli anni scorsi, con lunghe code causa cantieri nei momenti di maggior afflusso durante l'estate. I cantieri verranno riprogrammati, riferisce l'ente statale che ha in gestione il raccordo autostradale. Soddisfatti i sindaci ferraresi dei comuni su cui insiste la superstrada, tanti infatti sfruttano l'arteria anche per la mobilità interna del basso ferrarese. Il cronoprogramma indica il completamento dei lavori tra il chilometro 20 e 24 per metà giugno, oltre alla proroga delle chiusure temporanee di ingressi ed uscite di Comacchio Portogaribaldi. Situazioni che avrebbero creato diversi disagi alla mobilità. Il comune più penalizzato ovviamente è Comacchio, soddisfatto di questa notizia il sindaco Pierluigi Negri e come lui e anche gli altri sindaci, come detto, della provincia estense. Anche i consiglieri regionali Marcella Zappaterra e Marco Fabri si erano interessati dell'argomento e avevano avanzato delle indicazioni e richieste alla regione. Ora parliamo della siccità, tutto il grande fiume è sotto la soglia di emergenza, la situazione di estrema emergenza si registra addirittura anche nel Ferrarese e nel delta del Po e crescono i timori per l'agricoltura. Continua inesorabile il processo di esaurimento delle portate del Po con l'intero corso del fiume al di sotto della soglia di emergenza per l'estrema siccità. È il messaggio lanciato dall'autorità del fiume nell'incontro dell'osservatorio che ha coinvolto regioni e tutti i portatori di interesse. Si guarda con speranza alle previsioni meteo che annunciano pioggia per i prossimi giorni ma non tali da migliorare significativamente la situazione. E in Emilia Romagna la situazione parla di estrema siccità che prima era localizzata inizialmente nella zona di Piacenza ed ora è arrivata praticamente sino al delta. A Ponte Lago Scuro si misura la quantità record in negativo di soli 491 metri cubi al secondo, prima volta dal 1972 nel periodo invernale. I torrenti appenninici minori sono in secca ma anche i rimanenti affluenti hanno portate ridotti dell'80%, stessa situazione per laghi e serbatoi idrici. I problemi più urgenti riguardano l'agricoltura con l'inizio della campagna in rigua e la produzione di energia idroelettrica che si attesta a valori minimi degli ultimi vent'anni. La disponibilità di acqua per l'irrigazione sarà inferiore al normale anche perché si prevede un limitato ricarico dallo scioglimento delle nevi e dalle future precipitazioni, senza contare che quest'anno l'irrigazione inizierà prima del solito e con quantitativi maggiori a causa dell'aridità. Il picco della domanda d'acqua è atteso come di consueto nel mese di maggio a causa della sovrapposizione della domanda da parte delle principali culture. Ingressi gratuiti per persone con disabilità e accompagnatori ai musei e agli spazi espositivi del Comune di Ferrara, accessi senza costi al Teatro Comunale, allo stadio, previa prenotazione alle piscine di proprietà comunale Beethoven-Bacchelli. Sono alcune delle agevolazioni che l'Amministrazione Comunale di Ferrara ha previsto nell'ambito di una convenzione sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità e che ha ricevuto l'ok della Giunta su proposta dell'assessore Cristina Coletti e dopo anche una interlocuzione diretta con il Ministero delle Disabilità che è stata tenuta dal Sindaco Alan Fabri. Si tratta delle prime misure a cui darà accesso la nascente Disability Card, la carta europea in formato tessera, avete visto nelle immagini, che consentirà di sostituire tutti i certificati verbali che attestano la condizione di invalidità e di accedere ai beni e servizi pubblici e privati gratuitamente o a tariffe agevolate. Il Comune di Ferrara apre quindi le porte al futuro ha spiegato il Ministro per le Disabilità Erika Stefani. Ed è stata inaugurata a Ferrara la presenza del Presidente Consob Paolo Savona, l'Associazione Guido Carli, celebre giurista che fu Governatore e Direttore Generale della Banca d'Italia, Ministro, Presidente di Confindustria, Senatore e tra le altre cose anche Consigliere Comunale a Comacchio, città d'origine della famiglia. E a Ferrara è insediata a Palazzo Crema in via Cairoli la sede emiliano-romagnola dell'Associazione di Cultura Economica e Politica Guido Carli, nata a Milano nel 2003. Lunedì la cerimonia ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. In un momento di crisi abbiamo bisogno più che mai della riscoperta dell'insegnamento di un grande costruttore e ricostruttore come fu il professor Carli, ha detto il Sindaco di Ferrara Lanfabri, Vice Presidente Anci Emilia Romagna. Presenti alla cerimonia anche il Presidente della Consob Paolo Savona, oltre che l'Assessore della Regione Emilia Romagna Paolo Calvano e il Sindaco di Comacchio per Luigi Negri. Presentato poi un progetto culturale di rilievo nazionale, l'archivio digitale completo degli iscritti di Guido Carli, che raccoglie oltre 1.200 documenti dalla tesi di laurea del 1936 a quelli pubblicati i postumi. L'Associazione poi organizzerà conferenze, convegni, seminari formativi e dibattiti sui principali temi di attualità economica e politica. Parliamo ora di cinema affetti speciali. Il genio di Carlo Rambaldi tra i giovani cinesti ferraresi a 40 anni dall'uscita di E.T. L'Extraterrestre, il film di Steven Spielberg, la scuola d'arte cinematografica Florestano Vancini, ha celebrato lo scorso weekend l'artista nato a Vigarano Mainarda. Da E.T. a King Kong, sino ad Alien, sono solo alcune delle creazioni cinematografiche di effetti speciali creati da Rambaldi. Sentiamo allora le motivazioni di questa scelta direttamente dagli organizzatori della Due Giorni che si è svolta nelle giornate di sabato e di domenica. Un'altra tappa fondamentale che segue un indirizzo che abbiamo voluto dare sin dall'inizio di questa avventura insieme a Stefano Muroni, che è un elemento identitario formidabile, ovvero ferrare la città del cinema. Penso che Carlo Rambaldi appartenca di diritto al sogno di ogni essere umano che ha vissuto nella seconda metà del Novecento e ancora porta avanti le proprie responsabilità, seguendo sempre comunque un sogno. E questo sogno noi lo dobbiamo ovviamente trasferirlo alle future generazioni per la valenza culturale, immaginifica e geniale che Carlo Rambaldi aveva. Quindi facciamo un'operazione interna per poterla rendere ancora di più universale. E quindi l'amministrazione è a fianco di questa iniziativa. Ci piace rientrare nel territorio natale di Carlo Rambaldi, per cui presentiamo innanzitutto una masterclass proprio edita da Victor Rambaldi, che traccia un percorso storico e storiografico della nascita dei trucchi cinematografici che assurgono ad effetti speciali con l'Ars di Carlo Rambaldi. Essere riusciti in qualche modo a riportare simbolicamente l'arte, il genio, l'artigianalità e il mestiere di Carlo Rambaldi a Ferrara. Di legare la tradizione all'innovazione, quindi quello che è stato anche il passato cinematografico nella figura di Carlo Rambaldi, con quello che potrà accadere nelle nuove generazioni. Quindi portare il genio di Carlo Rambaldi attraverso laboratori, attraverso masterclass, attraverso formazioni di alta qualità negli allievi della scuola d'arte cinematografica Florestano Vancini. Questa è l'idea di Ferrara, la città del cinema, un grande laboratorio cinematografico in cui i ragazzi si incontrano per diventare professionisti del cinema. E da oggi ci saranno anche gli effetti speciali attraverso queste due giorni grazie alla fondazione Carlo Rambaldi. In più ricordiamo uno dei più celebri ferraresi del Novecento nel mondo e quindi siamo molto molto contenti e forse anche commossi. Allora chiudiamo qua il nostro TV giornale. Naturalmente ricordiamo nelle prossime edizioni il bollettino aggiornato per quanto riguarda il Covid, la pandemia, insomma vedremo gli effetti. Tra l'altro ricordiamo che insomma dal primo aprile ci saranno anche dei cambiamenti per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. Piano piano cercheremo di capire quali saranno dal punto di vista proprio dell'uso della mascherina che comunque è consigliato assolutamente tenere anche in vista degli aumenti in questi giorni dei contagi ma sicuramente ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda l'utilizzo ad esempio per poter accedere in certe strutture e quant'altro. Sicuramente lo stato di emergenza dal 31 marzo non ci sarà più. Allora chiudiamo qua il nostro TV giornale per tutti gli aggiornamenti. Vi rimando naturalmente al nostro sito, alla pagina Facebook e al nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci.